Musica Mi chiamo Cristia Ciao, mi chiamo Kevin Ciao, sono Ben Ciao, mi chiamo Alessandro Ciao, mi chiamo Cristia Ciao, sono Simone Ciao, mi chiamo Francesca Mi chiamo Giona Ciao, mi chiamo Cristia Mi chiamo Manuel Ciao, mi chiamo Sofia Ciao, mi chiamo Matteo Mi chiamo Giotterin Faccio il progetto di Radio Web e quello di Social Day Cos'è la Social Day? Il Social Day è un'attività di solidarietà e generosità Ti metti in gioco Per qualcuno che magari sta peggio Oggi ho capito molte cose Perché facciamo giornalino? Il giornale perché ritengo che sia fondamentale per questi ragazzi Innanzitutto imparare a guardarsi attorno A incuriosirsi, a rielaborare alcuni fenomeni A interpretarli e ad avere un po' una visione della società complessa, critica, non banale Cosa hai scritto sul giornalino? Ho fatto l'intervista alla prof di Blasi Ho trattato un argomento su borsellino e palcone Ho portato un piatto tipico del Marocco e l'intervista a Roberto Ho fatto anche l'intervista alla preside È stata una cosa molto divertente perché anche la preside è una persona molto simpatica No, certo, ovvio lo leggeranno perché è fatto da noi Grazie a tutti